Serviva la vittoria contro il Brindisi per ritrovare quella serenità che cominciava a diradarsi dopo la sconfitta a Pomigliano. Ma il successo nel derby ha avuto anche un'altra valenza per la Fidelissandria, far prendere ulteriore coscienza del potenziale della squadra e consapevolezza di avere i mezzi per puntare in alto. Anche se Giancarlo Favarin, da allenatore navigato, preferisce riportare tutti con i piedi per terra e ricordare che la Serie D ha consumato appena quattro giornate di una lunga stagione. Ci dà consapevolezza nei nostri mezzi, però come dicevo ieri, siamo appena alla quarta del campionato, sempre presto per tirare delle somme o fare già delle confronti. Il campionato è lungo e difficile, lo sapete benissimo, perché lo conosciamo tutti e ogni domenica sarà una battaglia. È chiaro che questo fatto di aver vinto qua oggi con questa contro il Brindisi sicuramente ci dà ancora più consapevolezza, come dicevo prima. Per giocarci questo campionato avviso aperto con tutti. Se da una parte c'è la consapevolezza di un potenziale notevole tra centrocampo e attacco, dall'altra non si nasconde qualche crepa nel sistema difensivo. Otto gol in quattro partite sono un dato preoccupante, anche se i tre subiti dal Brindisi, a giudizio di Favarin, sono figli della situazione d'emergenza con la quale si è dovuta allestire la difesa domenica scorsa. Oltre le capacità degli avversari sicuramente qualcosa concediamo. Noi in questo momento, oggi specialmente, eravamo proprio contati dietro perché tra squalifiche e problemi di transfert per gli altri non avevamo cambi per poter fare qualcosa in corsa. Anche se è stata fatta una buonissima partita, però su qualche situazione abbiamo sbagliato come posizione, come posizionamento e sinceramente qualcosa va rivisto, però l'importante è poterne parlare con il risultato in mano.